Reduce da un blitz esterno di tutto rilievo, il capistello cerca di dare continuità alla sua remuntata contro un 11 di pari livello e notoriamente non particolarmente ispirato lontano dalla valvo mano. C'è per entrambe il desiderio di capire cosa faranno da grandi, sospese nel limbo del vorrei ma non posso. Prima del via, toccante momento in memoria delle vittime di Parigi, poi si gioca in una giornata freddissima e che vede un esordio davvero di peso, quello della neve. All'interno del rettangolo di gioco il tatticismo è sfrenato e il match quindi non decolla. Siamo però ancora al terzo quando il giovane Lungagnone Fantauzzi prova a farsi un regalo ma tira la figura e vanifica il tutto. Non ci crederete ma la seconda azione arriva mezz'ora più tardi e porta la firma di un lepre acrobatico nell'occasione ma non vincente. Cinque minuti e tocca a Venditti prendere a testate il pallone che però non si indirizza verso la destinazione sperata. Tracce di Montorio solo in chiusura di tempo quando Marrone cannoneggia da tiro franco ma il cuoio termina a lato. Tè bollente per tutti e ripresa più godibile ma solo a partire dal quindicesimo quando gli ospiti passano con un piattone di Durante che non lascia scampo a croce. Sbanda il capistrello ma tre minuti più tardi lepre prova a riportarlo sulla retta via. Testa in buona elevazione però di Giuseppe blocca. 90 secondi da incubo per i Granata al venticinquesimo quando Gizzi si gioca la partita graziando croce in due occasioni. Prima su rapido cost to cost poi su conclusione piazzata senza molto sangue freddo. Mister De Amicis intanto sbraita in tribuna squalificato e enerme di fronte alla beffa che si intravede all'orizzonte. Gol mangiato gol subito è quasi una legge del calcio che si palesa al ventiseesimo quando Di Fabio non nuovo a queste imprese e malgrado il ruolo spizza di testa e deposita in fondo al sacco. Capistrello rivitalizzato e ora anche molto ispirato alla ricerca dei tre punti. Già al trentesimo quando lepre manca l'aggancio di pochissimo. Sembra poter essere l'azione della svolta e invece nei restanti minuti non succederà più nulla. Dopo partita con l'allenatore in seconda del Montorio Muscarà. Allora mister è un buon pareggio in trasferta state trovando il bando della Matassa anche lontano da Montorio. Sì è un pareggio che ci dà continuità di risultato se non sbaglio questo è il quinto risultato utile consecutivo. Un peccato perché oggi su un campo sicuramente difficile dove loro fanno credo la loro forza nel proprio campo potevamo ottenere la vittoria perché sull'1-0 ci sono capitate un paio di situazioni dove potevamo chiudere l'incontro. Poi il capovolgimento di fronte hanno avuto la palla del pareggio. Questo è il calcio purtroppo potevamo comunque ottenere i tre punti oggi. Mister Torti due punti persi e un punto guadagnato. È un risultato giusto quindi giusto così è un punto guadagnato. Il campo ha detto questo ci prendiamo sto pareggio. Il primo tempo abbiamo sfilato un paio di situazioni il gol. Loro non erano mai stati pericolosi tranne una ripartenza. E poi il secondo tempo siamo andati un po' in confusione su quei 3-4 calcio d'angoli che tra l'altro sul gol non era calcio d'angolo bensì era rimesso dal fondo però non è che stiamo qui adesso a sottigliare su certe cose. Abbiamo subito il gol, abbiamo fatto una grande reazione, abbiamo pareggiato. Nella fine il risultato di parità è giusto. Grazie. 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 Grazie.